L'Atletica Piacenza ha celebrato un anno di grandi successi nel corso della tradizionale festa organizzata a Palazzo Galli dove è stato consegnato anche il premio Walter Sickel a Luciano Dametti, allenatore e direttore di gara che ha dedicato la vita al mondo dell'atletica. L'evento è stata l'occasione per fare un bilancio dell'annata sportiva che si conclude con 8 trionfi e 35 podi regionali e un meraviglioso titolo nazionale. Viste del futuro vediamo di far crescere i giovani verso le categorie superiori e cercare di portarli a vincere qualche titolo in più a livello regionale, migliorarsi costantemente e c'è sempre poi la speranza di portare a casa, come abbiamo fatto negli ultimi 14 anni, almeno un titolo italiano all'anno. Tanti applausi per Andrea Dallavalle, argento europeo nel salto triplo e vero e proprio esempio per gli oltre 490 tesserati dell'Atletica Piacenza. Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorare le prestazioni passate, quindi quest'anno ho alzato molto l'asticella, l'anno prossimo sarà un anno duro per migliorare dopo i risultati di quest'anno, però insomma si lavora sempre per questo e non ci diamo limiti. Cosa consigli invece ai più giovani che entrano a far parte adesso della famiglia dell'Atletica Piacenza? Diciamo che la cosa positiva è che viviamo tutta l'Atletica nello stesso campo perché siamo sempre tutti assieme, ci vediamo tutti i giorni e quindi penso che vedere che anche io mi alleno, ma non solo io, anche altri ragazzi si allenano con costanza e soprattutto con molta intensità penso che gli faccia capire che è questo il segreto per ottenere dei buoni risultati. Sorpresa dell'anno è Eleonora Nervetti che ha vinto i campionati italiani promesse sui 100 metri. È stato un anno molto bello, il più bello fino ad adesso, spero sia solo l'inizio. È stata una grande sorpresa anche per me, aver vinto un titolo italiano è stato completamente inaspettato. Soprattutto vedendo il tempo è stata una grande soddisfazione aver tolto un record provinciale che resisteva già da un bel po' di anni. Sono 25 i titoli nazionali raccolti negli ultimi 14 anni dall'Atletica Piacenza che ora guarda al futuro con al centro la crescita dei giovani.